Forte scontro tra due auto questa mattina intorno alle 9.30 in Contrada Pissi a Capodorlando. Le circostanze dell'incidente stradale sono ancora da chiarire, ma pare che l'anziana donna alla guida della Opel Corsa, proveniente dalla via consolare antica, abbia svoltato improvvisamente per entrare nel cancello della propria abitazione, quando sopraggiungeva in senso opposto la Fiat Croma, guidata da un 62enne orlandino, che non ha potuto evitare l'impatto. Fortissimo lo scontro tra le due auto, che ha provocato anche il testacoda della Opel Corsa, mentre la Fiat ha azionato tutti i sistemi di sicurezza, tra cui l'airbag, che hanno limitato i danni. Il conducente della Croma ha riportato ferite lievi alle gambe e potrebbe aver accusato un contraccolpo, mentre la signora era in stato di shock. I due sono stati trasportati da due ambulanze all'ospedale di Sant'Agata Militello. Sul posto per i rilievi e regolare il traffico sono intervenuti gli agenti del commissariato di Capodorlando e i vigili urbani.